Benvenuto nel mio canale, siamo di nuovo con te per le notizie sui tabloid. Non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al mio canale. Dopo esserti iscritto per essere avvisato di tali video più velocemente. Non dimenticare di premere il pulsante di notifica. Chi rembursina ha presto dimenticato il suo vecchio amore, Ande Ersell. Si è innamorato di una bionda così. Ande sarà molto dispiaciuto. Ha preso il bambino come una rosa. Chi rembursin, di cui si è parlato molto di recente, è stato recentemente coinvolto in voci d'amore con Ande Ersell. Secondo le accuse, i due hanno dato al loro amore un'altra possibilità. Ma in seguito i due si sono lasciati di nuovo. Non molto tempo dopo la rottura, si è scoperto che Chi rembursin aveva perso il cuore per una bellezza bionda. La bionda che è entrata nella vita di Chi rembursin le ha tolto il fiato. Secondo le affermazioni sui social media, Chi rembursin ha iniziato ad avere una storia d'amore con una modella bionda in Spagna. Chi rembursin, che ha avuto una storia d'amore silenziosa, si è innamorato a prima vista e sono stati fatti commenti che era molto soddisfatto delle sue condizioni. Dopo queste affermazioni che hanno scosso l'agenda, molte persone hanno dimenticato Ande Erselli in fretta. L'uomo ha capito che non sarebbe successo niente alle brune, ha commentato. Vengono citati molti nomi su chi sia la bellezza bionda. Il fatto che Chi rembursin non parli della sua vita privata fa pensare che queste affermazioni divamperanno ancora di più. Cosa ne pensi di Chi rembursin, che si pensa non potrà mai più incontrare Ande Erselli? Era così nelle nostre notizie, se ti piace, premi il pulsante mi piace e non dimenticare di iscriverti. Ci vediamo nel prossimo video. Arrivederci.